Anche tu puoi essere un vero italiano. Lo sai che l'altro giorno sono stato in una pizzeria e mi è andata una pizza quadrata. Ci puoi credere? Quadrata, una pizza, è rotonda. Condoliere! Tutto bene con l'asato del pepe, però... Pepe, facciamoci una lasagna del pepe, facciamoci una pasta del pepe. Tutta questa pasta! Mi stai toccando il cuore, mamma! Bellissima! E essere italiani, sorriso, seduzione e galanteria. E un Alfa Romeo. E Giulietta. Veni a la tienda e ha sete más italiano. Sorteamos un Alfa Romeo Giulietta, mas un viaje a la Toscana por 15 días, para dos personas, con todo incluido. Del 9 al 24 de septiembre, Festa d'Italia, tienda inglesa.